Nicola Molteni buone notizie sono stati presi dalla polizia i due killer fuggiti in permesso premio quello di Pescara e quello di Genova come commenta la notizia ma esprimo vivo ringraziamento e mi complimento ovviamente con le forze dell'ordine che hanno riportato dietro alle sbarre questi due pericolosi pluri assassini e pluri omicidi le forze dell'ordine svolgono sempre con grande serietà il proprio impegno detto ciò però rimangono tutte le responsabilità giudiziarie e politiche rispetto a queste due vicende agghiaccianti e vergognose questa mattina il ministro cancelliere è stata imbarazzante nella relazione su questi fatti noi abbiamo da un lato chiesto al ministro della giustizia che venissero accertate immediatamente le responsabilità e rimangono le responsabilità politiche del ministro cancelliere cui abbiamo chiesto le dimissioni queste due evasioni gravissime di due delinquenti due criminali che dovrebbero rimanere a vita dietro le sbarre e la conferma del fallimento totale delle politiche premiali nei confronti dei detenuti e soprattutto nei confronti dei detenuti e dei criminali chi commette reati così efferati non può beneficiare di premi non può beneficiare di sconti di pena di liberazioni anticipate ed è per questo motivo che la lega oggi più che mai condurrà una battaglia durissima contro queste misure premiali il problema delle carceri non lo si può affrontare e risolvere con gli indulti mascherati ma col principio della certezza della pena quindi da oggi parte nuovamente contro il governo e contro il ministro degli svuotacarceri dei salva delinquenti una battaglia durissima per la lega prima vengono le vittime dei reati anzi vengono solo ed esclusivamente le vittime dei reati quindi siamo pronti a una battaglia dura